Il provvedimento è un provvedimento che noi abbiamo deciso immediatamente di chiedere al primo firmatario, cioè alla senatrice di Ciena di ritirarlo, perché lo riteniamo sicuramente anticostituzionale, in quanto la Costituzione prevede una famiglia naturale, una famiglia formata da un uomo e da una donna, quindi un matrimonio formato da un uomo e da una donna, ma sicuramente riteniamo che sia contro tutte quelle logiche che regolano la vita civile in Italia. La proposta della Lega è stata una proposta forte, è stata una proposta con 5.000 emendamenti a questo provvedimento, 5.000 emendamenti dove chiedono in sostanza di stravolgere questo provvedimento e, come ho detto prima, di ritirarlo. Vedremo nelle prossime ore che cosa succederà, anche alla luce di tutto quello che è il dibattito interno ai vari partiti della maggioranza. Oggi come oggi, questo provvedimento sappiamo come parte e non sappiamo come finisce.